Il dato di Istat lo consiglio estremamente importante ed affidabile per analizzare gli andamenti sia dell'occupazione che dell'economia italiana. Il dato aggiornato è sempre la cosa migliore, si dice sempre che è meglio un dato aggiornato magari leggermente meno affidabile che un dato affidabile al 100% ma vecchio di un paio d'anni.